musica e bella a tutti ragazzi qui Wolf si avete sentito il rumore del mio collo cerca di non pulire per favore ecco io ti consiglierei di procurarci un po' di legno dato che siamo quasi non cadere no 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 è sconsigliabile ok così va meglio allora qua abbiamo quasi finito i picconi e anche tutto il resto giro un po' semplici la sinistra che adesso stavo pensando dobbiamo trovare casa nostra si ma questa qua teoricamente è la stessa gola dove non c'eravamo forse non si sa magari abbiamo scavato così tanto comunque l'importante è che abbiamo messo tutte le torce e abbiamo salvato le coordinate circa quindi possiamo recuperare il tutto possiamo tornare in miniera anche se non troviamo casa nostra spero se no comunque tanto abbiamo raccimolato un casino di roba dalla miniera stai iniziando a farsi buio è questo qua anche che mi preoccupa casomai ci rifugiamo in una casetta e facciamo non eravamo passati di qua no torniamo indietro e facciamo magari una casetta nuova facciamo un cunicolo quattro torce e ci rifacciamo una casa nuova cioè magari proprio di fianco all'entrata della miniera cosa abbiamo vicino abbiamo vicino i creeper così non sappiamo neanche dove cavolo che è si poi quando ti faccio la minimappa la troviamo a casa nostra assicurato acqua infinita abbiamo messo delle torce fuori a casa nostra perchè si vedesse bene no perchè non era prevista che trovassi un colo di quello genere e appunto mi aspettavo di farla io la miniera quindi grandi come volevo bravo hai preso la spalla attimo perchè mi fa un po' paunga sto posto eh trovare casa nostra non è piacevole abbiamo preso un casino di ferro tanto carbone vabbè quanto carbone abbiamo aspetta circa come il ferro ci basta per una vita siamo dei mostri veramente ce l'abbiamo fatta ragazzi metti torce dappertutto fuori da casa allora si aspetta prima cosa qua ferro e non abbiamo la legna metti il carbone allora no aspetta facciamo una cosa ecco dormiamo ma siamo dei mostri ci sta allora carbone e ferro che intanto iniziamo che tanto il ferro grezzo non serve a niente no aspetta torce no allora aspetta facciamo una cosa iniziamo lasciamo tutto in casa prima cosa intanto anche se vogliamo vabbè beh già inizia a mettere il carbone e il ferro che così intanto che serve ma no intanto si intanto può lavorare inizia a farlo inizia a farlo inizia a farlo facciamo questo qua carbone 19 e 60 no non basta 19 ma non so fa niente inizia a lavorare ma c'era il 64 no quello li teniamo cioè che scusa sei tu una miniera allora torce dappertutto torce per identificare casa nostra che così si non sapeva più dov'è il buio la troviamo bravo adesso dovrebbero bastare per adesso credo l'ingresso a nostra miniera ho fatto illuminato da bestia come fa un albero di queste dimensioni un bonsai ma scusa poi lo si e poi wolf diceva facciamo i video più corti quella è l'ultima volta era abbastanza vero wolf intanto poi lo tagliamo si poi velociziamo per chi non lo sapesse non so magari lo scriviamo anche in fondo l'altro video siamo andati avanti per 54 minuti si abbiamo un po' no no aspetta qua dobbiamo salire che schifo sta montagna tutte le volte sali e scendi ti trovi più perchè continui a salire e scendere si però l'unica cosa bella è che lì comunque lì siamo proprio attaccati al almeno è quel laghetto lì che si è favoloso ci facciamo la fama io avevo capito che eravamo vicini a casa solo per quello cioè si perché sapevamo che lì eravamo vicino a quel punto lì dai dai allora non siamo andati così distanti no perchè secondo me lì è tutta una questione perchè poi giri e scendi giri tutto attorno alla montagna non ci capisci più niente nel senso ragazzi abbiamo dovuto un attimo interrompere il video non troviamo più le cuffie degli apopomi sono lì quelle lì erano le mie e poi vabbè eh oh sai tu che hai fatto casino ragazzi ricordatevi che ogni live ha sempre dei problemi infatti noi li siamo pieni c'è sempre qualcuno che devi interrompere ora recuperiamo un po' di legna legnaaaa fps fps dov'è che stava dove che stava di fianco a market 7.1.7.4 ah 37 calcolando che noi il nostro video stiamo registrando a massimo 25 fps ah già non abbiamo riavviato il timer bene va bene si ragazzi stiamo anche se non lo azzeravi continuava a dover arrivare eh lo so sbagliato noi si registriamo naturalmente il tempo di registrazione col cellulare perchè sono incapaci non so perchè tu riesci a contare si uno due tre il tempo eh questi qui sono i secondi il mio cellulare non è d'accordo su questo molto accurati per un po' prendiamo tutto tutto io voglio tantissima legna proprio 80 64 cubetti di legno tanto poi ci faccia le assi si appunto devo proporlo mio zio che fa svaleniamo che è zio ma tu tagli un pezzo di albero largo 20 cm per 20 cm e poi puoi puoi ricavare delle assi quattro assi per ogni pezzo e dov'è che succede questo sono in minerca povero maiale direi di sprecare il nostro piccolo di legno di tanto perchè non ci serve più a legno eh c'è un tipo sempre stato il nostro scopo sarebbe quello di riuscire ad arrivare a livello 50 di esperienza non ce la faremo mai senza morire e fare attenzione fare un fare un libro magico e prendere tutte le nostre armi e renderle super potenti con i nostri 50 livelli di esperienza sono tornati all'entrata della miniera ottimo no si io gli ho di aggiungere altri torci e poi non bastano questo è vero ragazzi poi facciamo un po' di piccoli poi facciamola farm facciamola farm se tu lo fai io ti spiego scusa costruire mettiamoli mettiamola terra lì dove c'è il lago prima di dire si farla farm vuol dire praticamente gli animali ma gli animali com'è che fai? ehm poi ti spiego poi lo scopriremo poi lo scopriremo assieme c'era un tizio in un server online che gli hanno ucciso tutti i polli perchè praticamente la gava al server per colpa sua perchè aveva un milione di polli dentro una farm e gli hanno uccisi tutti perchè hanno detto che laggava troppo il server e c'era la gente che diceva questo qua era malato di mente uno che fa una farm di un milione di polli non è normale e poi in sto server qua c'era sempre un problema non trovavi mai legno cioè tutti i server non multiplayer come sai tu non trovi mai la legna perchè se la mangia tutti e sei costretto a comprarla poi io compravo le fornaci perchè ho la casa interamente fatta in fornaci poi un giorno è arrivato uno stronzo e quei cheat praticamente ha violato tutta la mia casa si è rubato tutte le fornaci e poi le ha rivendute tutte c'erano tipo 900 fornaci perchè la mia casa era larga tipo 30x30 e c'era anche il piano di sotto quindi erano due piani 30x30 fa 900 per 2 fa 1800 1800 1800 1800 praticamente non è esatto comunque vabbè 1800 fornaci le moltiplicate per 8 che è il numero di pietra che serve per fare una fornaci io lascio a capire quanto tempo ci abbia messo a fare ci ho messo circa 5 settimane con anche degli amici che mi passavano tutte le fornaci che riuscivano a fare lavoravamo giorno e notte solo per fare questa roba qua e poi praticamente sono arrivati sti qua che non hanno detto niente hanno violato casa nostra hanno buttato hanno venduto tutto e poi e niente ho contattato l'amministratore del server l'ion e lui ha detto che non gliene fregava niente che erano i cazzi miei e niente o abbiamo finito il piccone lino adesso finiamo anche questo qua poi torniamo a casa poi ci fosse ce ne dovrebbe essere ancora un altro no? poi l'ultimo poi usi le fregge com'è che si costruisce un altro? eh l'avevo letto ci serve la corda quindi dobbiamo andare a cercare di dei lagni per tutte le cazze poi ci penso io ecco giusto poi facciamo un video in cui probabilmente moveremo in cui giriamo di notte però non in modalità estrema non ho in modalità estrema si vabbè però in senso di e non con questa cosa qua non con questo mondo perchè preferiamo non correre i rischi però comunque giriamo di notte in modalità eh no però sono un po' stretto a farlo in questo mondo eh no è perchè no allora lo facciamo in modalità creativa ci prendiamo a tutto e poi giriamo allora facciamo no facciamo in aspetta vediamolo lo facciamo in modalità difficile innanzitutto ah beh poi comunque vi facciamo sapere posizioni difficile prima in modalità creativa ci prendiamo tutto quello che abbiamo di diventare adesso giusto per far finta che sia questo mondo qua e poi passiamo con i game mod passiamo in modalità survival e facciamo sta roba qua in modalità difficile opzioni difficile così se è come se fossi in estrema praticamente la differenza è che si muore per rinascere perchè in estrema è quella la differenza la difficoltà è massima in estrema basta no secondo me non è neanche in difficile è proprio estrema c'è scritto che poi adesso dovremmo fare una ricerca per capire cos'è che cambia dalle varie difficoltà si giusto poi magari facciamo un video in cui parliamo anche di questo tanto i video di Minecraft ce ne sono un casino quindi non saremo di certo i primi a farlo anche gli ultimi probabilmente per scuola Minecraft i colori che l'ha diventato si è fatto di milioni no perchè lo piratano tutti si beh attualmente è il gioco più piratato forse del video è molto probabilmente perchè nessuno ha voglia di spendere 20 euro per prendere un gioco fatto di quadrativo si direi di si si poi c'è gente che si lamenta di raffica di carboglio ti fa schifo io direi di mettere ancora tutto intanto il ferro dovrebbe esserci insomma tipo punto adesso con tutta la linea che abbiamo e poi facciamo vedere attenzione no usiamo il carbone fatto apposta sta ancora bruciando guarda con 11 cose di carbone si vede che dura di più carbone eccezionale 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 ok allora adesso come il film eccezionale e poi facciamo un secchiello e vi facciamo vedere come si fa l'acqua infinita ecco cosa che sanno fare proprio tutti magari troviamo qualcuno che non lo sa fare e poi facciamo una strage facciamo un paio di casse e una piena di pietrini solo di cose di pietrisco insomma di stock di pietrisco a 64 e una piena solo di stock di terra a 64 non servono a niente però sono eccezionale eccezionale aspetta adesso ecco qua ecco giusto per evitare che entri nei mostri dalla scala ti ricordi com'è che avevo fatto? ah si che l'hai fatto alla porta ma aspetta facciamo una cosa giusto 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 la circondiamo così allora usiamo il pietrisco ok così qua lasciamo un buco che ci facciamo una porta facciamo così così ottimo così starà male chi chi ama l'estetica ci odierà però fa niente ma è anche tanto sai beh insomma è notte insomma una cosa fatta così non sta proprio giusto allora prendere tutto ah no aspetta ah no aspetta ecco toglieri perchè non aveva finito mamma mia la fornace che si ferma perchè non ci sta più quando l'avete visto lo cagliate ok ok e abbiamo la porta siamo dei ribelli voilà sta malissimo però ragazzi allora a questo punto direi che con il ferro che abbiamo ci facciamo la corasse no ma perchè sprecarla non ti serve la forza no allora io propongo di fare beh innanzitutto un secchio perchè serve sempre ah già allora un attento me lo ricordo uno due tre ottimo ok aspetta un attimo vedere una cosa ma si la bottiglia ma il cesoio ah il cesoio allora l'hanno cambiato ah no la bottiglia non era così giusto giusto il cesoio a cosa serve è finito boh vabbè allora a questo punto ci facciamo tanti ma tanti tu lo sapevi che se metti una pedana una pedana a fianco di una porta quando sali sulla pedana si apre la porta? non ti interessa? eh adesso poi lo facciamo quella cosa lì ok 64 perfetti e adesso direi di farci un po' di piccoli le sfade si finiremo tutto il ora si finiremo tutto che serve salto di qualità si molto probabilmente finiremo tutto allora facciamo una cassa in cui lasciamo un po' di piccoli e adesso poi li facciamo aspetta adesso... allora fai tanti piccoli di pietra anche perchè quelli li li usiamo per raccogliere la roba preziosa poi i resti usiamo quelli di pietra perchè sennò molti abbia tutto... allora aspetta, no, fai un attimo pensare... ah già è vero, facciamo tre spade in... in ferro... non so se ci stanno ci facciamo stare no, non ci stanno allora, no, prendiamo questo qua che intanto va finito beh, lo riprendi metti un po' di arlo allora questo qua mettiamo insieme, anche questo qua e ce lo otteniamo qua c'è tutto... allora aspetta, facciamo le pelle, lo mettiamo via la terra con la terra per rispandere di ferro ne teniamo una il ferro che non ci serve mettiamolo qua, insieme a questo adesso poi... eh, ci dobbiamo recuperare dei semi le frecce, che tanto per loro non ci serve si, frecce e poi c'è questo coso qua, cos'è? pianta di maglumano, l'arbosello e l'acacia ah no, poi aspetta piccone anche in ferro si, mettiamole... cioè ce ne portiamo dietro giusto un paio per raccogliere la roba preziosa per il resto... eh, te lo... adesso poi... no, no, teniamone uno perchè adesso come ho detto prima ma... passerà un po' di tempo prima che ritorniamo in miniera tanto adesso abbiamo la nostra scorta poi lasciamo qua... e facciamoci un po' di piccoli pietra che servono sempre però aspetta, lasciamo soltanto questo qua poi cos'ha? pietrisco mettiamo qua si, la metti... metti via la ghiaia che non ci serve a niente ah si, per quella lì è ghiaia metti la loro che tanto non serve a niente io la butterei io si, adesso poi la buttiamo no, teniamola per ogni evidenza ma non serve poi altro... allora qua... questo qua lo teniamo in pietrisco propongo di tenerlo un po' perchè fa sempre comodo eh, si già è vero no, adesso mi sta raccontando che lo dobbiamo fare in pietrisco vabbè, fa niente ce lo riprendiamo e adesso poi lo facciamo 10 intanto ce l'abbiamo il pietrisco e poi ci facciamo anche una zappa naturalmente nei massi 11 senti i colori poi lo recupero e adesso poi ci facciamo anche 1 o 2 zappe adesso dobbiamo fare la farm e direi che è vero che mi sono scordato ci facciamo anche il... se mi ricordo ma il nome adesso poi ve lo faccio vedere lasciamo la rita intanto ci servire che è che ti vuoi fare? però adesso... facciamo 2 zappe servono sempre se vuoi fare una farm se vuoi fare una farm e adesso e adesso ce ne facciamo 4 zappe io lo sapevi che un tempo lo scappo in mine era quello di completare tutti gli obiettivi ah giusto, poi cerchiamo il portale dell'ender dobbiamo trovarlo ci fa... ah dobbiamo battere gli slenderman però per farlo servono gli occhi di slenderman cioè di enderman ok adesso abbiamo l'ascia anche che vabbè abbatti molto più velocemente gli under portiamoci dietro un'ascia i picconi teniamoceli pure che tanto non si provvede no teniamoci una zappa picconi se... ok ti consiglio se i picconi non potremmoci nito tanti per intanto se non dobbiamo andare in mia non ci servono teniamoci metti 2 picconi sei disordinato che li muta io mettevo tutto in ordine una striscia solo di picconi un'altra di picconi di ferro vabbè ah no aspetta teniamoci anche questa te la consumiamo così il secchio lascio un punto no giusto portiamocelo dietro no poi ci serve allora ragazzi a questo punto è ancora notte quindi dormiamo vi lasciamo aspetta ci dovrebbe essere qualcosa della fornace se non sbaglio o è finito no va finito ecco quindi ragazzi vi lasciamo qua e volviamo bella tutti da wolf da jacopo ci vediamo la prossima puntata